Dopo essere morto in modo ignobile e aver ritentato la cosa per 5-6 volte, ho trovato una tecnica molto interessante che consiste nel fuggire da questi scontri e rifugiarsi dietro una piattaforma di difesa che trovate generalmente vicino ai portali. Così facendo ho bypassato il nervoso che mi stava procurando questo scontro. Ora, che cosa è successo? Rigiocandomela più volte ho capito. In sintesi, ora, qui, stavano commerciando due... Allora, prima abbiamo incontrato una nave che ha lasciato il suo carico. Dopodiché ne abbiamo incontrato altre due che commerciavano, una delle due si è un pochino arrabbiata e ha iniziato ad attaccare tutti, abbattuta anche quella. Ora, questa nave che stiamo andando a trovare adesso ci ha detto una cosa un po' sospetta perché fa, va bene, grazie, grazie, puoi aiutarci a recuperare il carico. Poi si sentiva il nome, la voce di un secondo ufficiale che diceva, ma capitano... E il capitano l'ha zittita subito e gli ha detto, lasciamo spazio al nostro ospite. E quindi mi puzza un po' perché mi sa che erano d'accordo questi qua. Adesso andiamo a dargli una mano a recuperare il carico, sempre che la scansione che mi stanno facendo in questo momento... Lascio il carico. Mannaggia la pupazza. Abbandono oggetto. Abbandono oggetto. Abbandono oggetto. Abbandono oggetto. E anche il cristallo inestabile che vale un sacco di soldi. Ok, grazie. Ora me li riattiro addosso. Posso? No, non posso. Gli ho lasciati e... Pazienza. Doveva succedere che prima o poi mi avrebbero scansionato, però ovviamente non ti metti a fare missioni come un pirla, come faccio io quando hai addosso roba. Però ci sarà modo di rifarli. Ovviamente quando avremo trovato la baia dei pirati, dove poter vendere questa roba. Ora, dobbiamo recuperare questa roba. Che sono dei container. Stanno ispezionando tutti però, si sente. Allora, questo è un... Vediamo se... Ok. Carico perduto. Tiriamo noi anche questo altro carico. Ok, dov'è? Fantastico, ti prego amico, accompagnaci nel nostro viaggio, non sarà molto lungo. Va bene. A nostro arrivo farò in modo che ti venga data una sistemazione adeguata. Mi faranno fuori, perché mi puzza. Infatti dice, segui i minatori circospetti. Allora lo seguiamo. Io ho una nave, ti ricordo, veloce. Adeguata velocità. Ok, così lo seguiamo e vediamo dove ci porta. Non sappiamo che cosa ci sia dentro questi cargo, ma li seguiamo e vediamo. No, stanno decisamente andando via, quindi devo entrare in modalità di viaggio rapido. e poi mi adatterò alla loro velocità. Non posso adeguarmi, ma li seguo. Vediamo dove andiamo a finire. Nel portale. Allora amico, cosa ti porta in un posto così remoto? Mmm, mi puzza sto... Tanto. Magari sento parlare alla famosa iniziativa dei pionieri. Beh, io ho aiutato i pionieri. Ma non deve sapersi. Dai terrestri. Spera me con un orgoglio, nostra fondazione... No, sembra amichevole. Almeno non mi farebbe tutto sto pippone prima di uccidermi. Invece il Boron dalla stazione dice che l'operazione è affascinante. Non sarete mica qui per il programma di miglioramento planetario. È una pletora di brillanti idee che mi piacerebbe molto. Si sta facendo complicata questa storia. Troppo le orecchie qui. Bene, sono sicuro che avremo ampie opportunità per una chiacchierata una volta arrivata a destinazione dei miei cari amici. Vabbè, speriamo. Questa è la base operativa. Porta il mio cargo. Carico. Ok, la dogana laggiù. Ma, scusate, ma voglio vedere una cosa adesso. Io, a parte che la mappa non ho mai capito come carico si fa. Ah, pionieri sagari, sa, ok. Eccola qua. Vicino cantiere. Valutare se schierare qui un satellite. Assolutamente. Un satellite va subito perché siamo vicini a un centro commerciale. Dopodiché, chiediamo l'attacco. Devo montare su questa nave il computer di attarraggio perché non ho voglia di attarrare manualmente ogni volta. Ok, dai, andiamo. Comunque, continuo a ripetere degli scocci stupendi sto gioco. E ne ha più di Elite Dangerous, sta l'altra. Tech. Stop. Avanti, 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 avanti. Stop. Giù. Bene, che dobbiamo fare? Aspetta, fatemi capire. Che devo fare? Parla con l'ufficiale di Dogana, ok. Andiamo, l'ufficiale di Dogana. Non mi stanno antipatici neanche questi tizi, eh, a dire la verità. Non è come correre dentro per non fare il viaggio insieme. Va bene, dai. Ufficiale, ufficio della Dogana, dai, andiamo. Vale. Mi manda il capitano a Tardes. Stavo aspettando un'altra consegna, una spedizione di tecnologia a Tardes scaricata pronta per il campionamento. Sono alleati nostri, quindi alcune di queste casse sono danneggiate. Immagino che tu non sappia nulla, vero? Sono ai rischi del mestiere. No, sono state sballotate durante un attacco gli acchi. È qualcosa che prendiamo molto seriamente. Firmerò subito le autorità locali. Qualcuno di voi mi avrebbe detto, potrei fare amicizia con gli acchi, ma non so chi siano. Quindi se qualcuno lo sa, se gli va di dirmelo, almeno lo so. Potrei darti la mano con quei pirati. Non mandare a invischiarti. Prendi questo. Scusami, non sono piuttosto impegnata. Che cacchio mi ha dato? Temo di essere riuscito a seguire. Potremmo dover investigare ulteriormente. Gli abitanti del locale Centro Recreativo stanno sicuramente in grado di lavorare. Fidati di me. Ho fatto il mio ricerche su come lavorano i veri detective. Chiedi sottilmente in giro. Ogni tanto è tradotto un po' così. Non ho capito che cacchio mi ha dato come regalo. Però, devo andare. Devo chiedere in giro. Vado a Fumi Allettanti. Vediamo un po' che posto è. A Fumi Allettanti. Io non ero mai entrato in un bar. Qua. E questo mi fa pensare una cosa. Una mia riflessione. Che X Rebirth è stato un abbaglio pazzesco. Infatti sono tornati di corsa a fare i giochi come facevano. Perché queste stazioni c'erano. Ma era tutto basato su questo. Vabbè, andiamo a chiedere. In questo momento, infatti, mi sembra di giocare a Iberth. Che fai qui? Il mio popolo è diffuso tra le stelle. Considero il mio sacro dovere viaggiare. Una delle altre portali. Mia assistenza spirituale. A colore non bisogna. Va bene. Cosa pensi abbiano bisogno? Qualcuno che insegni loro la serenità all'appagamento. La serie dei portali ospita così tante persone diverse fra loro un potenziale così grande per il conflitto. E anche su questa stazione raramente si trova in un momento di pace. Da molto tempo fa ho osservato un pilota con un volto terribilmente asimmetrico e rompere in queste stanze pacifiche salendo i passanti innocenti. Sarebbe davvero un peccato se questa promettente comunità finisse per dissolversi in un conflitto senza senso. Vabbè. Voglio andare a parlare anche con sto tizio. Prima mi diceva di andare su. Vabbè, parliamo con questo. Vediamo. Questo è la Tades, il tizio di prima. Shantirodo per il tuo coraggio. Ah, sì, ovviamente. La bravura. E quando... Il Xenon ha iniziato ad arrivare in massa e non li abbiamo spazzati via dal cielo. È stato glorioso, non è vero. Mi nascondono qualcosa e si percepisce in pieno. Non ne vedo... Faccio senza rite... Va bene, andiamo avanti. Goditi la tua permanenza. Qua c'è un altro tizio che gioca... A niente, perché c'è un tavolo vuoto. Per fortuna sono arrivato in tempo. Questa è la sua seconda ufficiale. Ti rendi conto che siamo professionisti, vero? Ma che probabilmente abbiamo già avuto a che fare con i pirati in passato? Quella situazione avrebbe potuto finire molto peggio. Ma anche... Molto meglio se avessimo fatto solo un minimo sforzo per ridurre la tensione. Questa è brava a pilotare, cazzarola. Taree di pilotaggio mi servirebbe. Probabilmente dovrei dirlo anche al capitano, tra l'altro. Va bene, arrivederci. Andiamo su, che c'è ancora qualcuno con cui parlare di sopra. C'è una S sopra, ma vabbè. Parliamoci. Salve amico pioniere. Che fai? Hai visto qualche faccia similità che è in giro? Sapete che alcune esperienze sensoriali possono fargli evocare i ricordi? Nel mio caso l'esperienza è vedere aumentare il mio conto corrente. Sì, va bene. Questi sono dei simil... Ferenghi. Sfile particolari. Tutti sono riservati. Sembra di camminare costantemente sulle uova. Mi piace proprio la dicitura chiedi sottilmente in giro. L'ufficiale di dogana è la peggiora della covata. Ti dimentichi anche un singolo cavillo del codice? Ti risponde in modo sbagliato e ti ritrovi improvvisamente messo alla porta. Ero con un affare in meno. Questo è molto bravo nella gestione. Andrebbe bene come capo della mia stazione. Considerami incuriosito. Mi pa... Lo pago. Posso pagarlo? No, non voglio pagarlo. Scusa, perché devo pagare? Chiedi sottilmente in giro. Dovrei chiedere a chi? Posso pagare il tizio lì? Ciao, pilot. Allora, pensa che tu abbia fatto un casino. Te l'ha detto lei? Voi dovrete essere piuttosto in confidenza ormai. Guarda, non sto dicendo che lei abbia torto. So di essere stato precipitoso. Potrei aver messo a rischio un'intera operazione. Mi dispiace avverti giudicato male. Ho semplicemente visto una nave sconosciuta. Arrivata in... Quel momento cruciale. Ho fatto il mio meglio per mantenere apparenze. Ma so che questo non cambia niente. Io... Forse dovrei stare lontano da Shani, però un po' per un bel po'. Servizi segreti terrestri. Voi state collaborando. Adesso io mi dichiaro. Quello ufficiale della Dogana è stata incombuta con quei pirati per tutto il tempo. Non sarebbe sorpreso se fosse lei stessa o maiachi. Uhuhuhu. Mi disgusti. Sì. 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 Ve l'ho dato il malinteso come direbbe il nostro amico. Ok. Ho segnato l'ufficio della Dogana per te. Sì. Intanto lo litigano. E quindi mi tocca aspettare che si liberi l'ascensore. Cavoli. Quello lì però. 179. Chissà che cosa mi dava. Vabbè. Intanto andiamo. Andiamo l'ufficio della Dogana. Non andiamo ad arrestare. Oh no. Il giroino ha lasciato lo stagno. Veloce assistente alla nostra investigazione e chiede la massima priorità. Segui. Torniamo la nave. Che seconda è qua? Ok andiamo. Andiamo. Una cosa che dovete imparare è che bisogna fare assolutamente un save. In questo gioco. Quindi ci fermiamo e facciamo un save. Stop. Save. E aspettiamo che finisca di salvare. Perché se no poi è un casino. Comunque. Come vi ho già detto. Fatemi sapere poi comunque cosa pensate del titolo. Cosa pensate di questa miniserie. Così. Giusto per. Perché. Mentre salvo vi faccio questa riflessione. Il gioco non sembra nemmeno X4. Quello che avete visto magari sul tubo. Su vari canali. Sul fatto del commercio. Così. Adesso stiamo seguendo le quest. Cosa che poi intendo abbandonare. Perché voglio dedicarmi agli affari. Come buon ferenghi. Dalle orecchie grandi. Seguirò i lobby. Come si dice. Però. Quella strada sembra essere curiosamente abitato. Suggerisco che utenti. Sì è vero. Hai abitato. Non intimidirlo. Dobbiamo ancora trovare l'indizio. Tremo dove sei. A giudicare le presenti relazioni e trattatiche di negoziazione. Probabilmente una certa quantità di persone la far accedere. Parla con. Ok. Ci parlo. Cosa vuoi da me? Mi stai minacciando. Io te non abbiamo altro da dirci. Adesso ti dico io. Ho ucciso il tuo amico Yaki. Arrenditi. E questo cosa dovrebbe significare? Che saresti disposto ad ammazzare finché non tieni quello che vuoi? Questo sarebbe il tuo modo di negoziare? Ci sono molti come me. Mi hanno trovato un pallone di scopo con i pionieri. Dopo che hai un altro qua. Il giorno dopo il giorno continua a presentarsi gente come te. Non desidero altro che rovinare le nostre vite. Non intendo sopportare di più. Non posso. Ve continuate semplicemente ad arrivare. Mi stai dicendo che ho ucciso uno dei miei amici così. Non ti permetteva di fare del male a qualcun altro. Ecco. Allora. Dato che questa tizia ci sta arrivando a conto. Io voglio fare un esperimento. E voglio vedere che cosa succede se gli avessi detto l'altra risposta. Quindi ricarichiamo la partita. Una delle pecche, lo dico sempre, di questo gioco sono i save. Sono veramente lunghi. Sia salvare che ricaricare. Soprattutto quando vi trovate in situazioni difficili. Come il combattimento appunto che sono morto prima. Vi sale il nervoso. Tante volte faccio l'altra F4. Esco. Ma poi dopo 20 minuti di torno perché ciò voglio di giocare. Quindi. Però vabbè. Intanto questo è quanto. Dicevo il gioco non sembra neanche X4. Veramente. È cambiato. Non ho mai seguito più di tanto le quest prima di questa ultima espansione della culla dell'umanità. Quindi non so dirvi se le missioni fossero così profonde. Io ricordo anche solo un X3 in cui c'erano missioni. Mi pare ci fosse anche qualcosa su un pianeta. Comunque delle azioni scriptate. Lo sto trovando davvero interessante. Molto interessante. Per quanto comunque voi potete giocare il gioco senza quest. Però senza quest vi perdete la lore. Quindi è bene magari farle nel mentre le vostre navi stanno gettando le reti per il vostro impero futuro. Intanto vabbè adesso dovremmo arrivare. Cioè guardate quanto dura un salvataggio. Adesso non faccio il taglio perché voglio proprio farvi vedere la pecca del gioco. Stiamo giocando su un SSD, un M2. Quindi è un disco veloce. È proprio il gioco che richiede una vita. Ora. Ok qua rivediamo. Dobbiamo trovare l'indizia. Non dobbiamo intimidirla. Dai parlaci. Ah non mi parla. Ma dove sei? Comunica. La morte di Obelisk è stato un incidente. Mi dispiace. Alla fine è stato meglio così. Alla fine è diventato un pericolo per se stesso e per chiunque gli stesse intorno. Siete stati visti insieme. Avevate una relazione? Si potrebbe dire così una volta. È vero comunque. È venuto da me di recente. Continuava a parlarmi di questo nuovo cyberware che aveva costruito usando la tecnologia terrestre. Ne andava così fiero. Ovviamente voleva che lo avessi io. Pensava che mi avrebbe fatto riconsiderare le mie decisioni e che magari sarei ritornata con lui. Non era più in sé oramai. Sono riuscita a dire no e così l'ho preso. Non sono riuscita a dire no e così l'ho preso. Tento con me. Anche se sapevo che non sarei mai più tornata. Potrei andare io al tuo posto. Ascolta ti farò un'offerta sempre più ragionevole di quanto mi aspettassi. E ho la sensazione che non smetteresti di cercare solo perché ti ho detto di sparire. Vai avanti e prendi questo. Guarda dove ti porta. Tutto quello che ti chiedo è di tenere una mente aperta e non giudicare. Un libro dalla copertina. Ok grazie. Stiamo facendo grandi progresso nella nostra impresa di terraformazione. Ah questi sono gli altri. Quelli della missione di prima. Il pianeta Saturn è nel sistema di profezia. Una volta ti ringrazio molto e voglio che hai avuto in tutto questo. Arrivederci. Ok questa è la missione quella dove eravamo andati all'interno della nave. Mi stanno dicendo che stanno andando avanti con la terraformazione. Quindi magari più avanti mi faranno vedere anche il pianeta terraformato. Questo è un impianto Xenon. È un impianto Xenotterrestra. Andiamo a vedere. Vederei anche un'acceleratina ma. Ok lo attiro. Seminario per equipaggio di due stelle. Gestione. Fantastico. E se i miei occhi non mi ingannano, sembra essere collegato con il signo che sono spermitoso, stai vedendo le tue vicinanze. Assistente. Ti ordino di investigare. Adesso dà anche gli ordini. Tutto questo ci porta in questo asteroide abbandonato in cui sembra esserci una base. Ragazzi, quale momento migliore per chiudere qui e chiedervi se avete interesse a vedere come prosegue questa quest. Alla prossima ragazzi. Ciao ciao.